Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 19 di questa sera, tra Aglio e Pian del Voglio e tra Via 1 Variante e Aglio, tutto verso nord. Sempre in A1, rallentamenti per traffico in direzione Bologna, tra Calenzano e Via 1 Variante, caraggiato opposta, un chilometro di coda per lavori tra Sasso Marconi e Via 1 Variante. In A11, possibili disagi per incidente, un'uscita a Parato Est nelle due direzioni. In Fipili, un chilometro di coda per veicolo fermo o in avaria tra Emporio Ovest e San Miniato, per chi viaggia in direzione Livorno. Siamo al traffico urbano di Firenze, sono partiti i primi cantieri per la linea tramviaria Fortezza San Marco, contestualmente anche modifiche al trasporto pubblico locale di autolinee toscane, tutti i dettagli sui nostri canali social. Può avversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, viate.